Se vuoi vivere una vita in cui puoi essere davvero te stesso ed essere felice, te la devi costruire con determinazione e coraggio. Tranquillo, nessuno nasce coraggioso. Il coraggio è un'abilità che può essere sviluppata. Benvenuti in Palle di Coaching, io sono Mauro Pepe e in questo video parleremo di coraggio e di come svilupparlo. Il coraggio è una virtù umana che ci permette di affrontare gli imprevisti, le avversità e il cambiamento senza scendere a patti con i nostri valori. Questa è la definizione tecnica. A me piace vedere l'etimologia della parola coraggio. Coraggio è formato da due paroline, cor e agio, significa cuore e avere. Cioè il coraggio significa avere cuore. Infatti è molto più facile essere coraggiosi sulle cose che per noi sono davvero importanti, le cose che noi davvero amiamo. Molti pensano che il coraggio sia l'assenza di paura. Non è così. L'assenza di paura è incoscienza. Il coraggio è agire nonostante la paura. Oggi, nella vita che viviamo, è necessario avere coraggio in tanti ambiti. È necessario avere coraggio quando prendiamo una decisione, quando affrontiamo una sfida, per attuare un cambiamento, per parlare davanti a un pubblico, per affrontare un esame, per fare una famiglia, per risolvere un problema davvero gravoso. Abbiamo bisogno di coraggio in tante cose diverse, spesso quotidianamente. Alla fine del video scrivi nei commenti come fai tu per essere coraggioso quando ne hai bisogno. Io ora ti spiego come fare per svilupparlo. Innanzitutto dobbiamo partire da un concetto fondamentale. Lavora sulla tua responsabilità. La responsabilità è qualcosa di fantastico. Tu fai qualcosa, arriva un risultato. Quel risultato può essere positivo o negativo. Se tu ti prendi la responsabilità di quel risultato, hai fatto un passo avanti. Se cerchi un alibi per il risultato che hai ottenuto, a quel punto lì stai dando un calcio in culo al tuo potere personale e al coraggio. Quando fai qualcosa, analizza il risultato. Se ti piace il risultato, complimentati con te stesso e poniti un altro obiettivo. Se il risultato non ti piace, prenditi la responsabilità di quel risultato e lavoraci sopra. Accetta, impara qualcosa di importante, scegli nuovamente cosa devi fare e vai avanti. Questo ti aiuterà tantissimo a sviluppare il coraggio. Secondo passaggio fondamentale. Non procrastinare. Agisci subito. Quando procrastiniamo, rinviamo o diciamo frasi quali Primo poi lo farò. Cosa succede? Che aumenta il mostro in testa che ci costruiamo relativo alla paura che dobbiamo affrontare. O relativo alla sfida che dobbiamo affrontare. C'è una massima che dice La paura bussò la porta. Il coraggio ad andare ad aprire e non trovò nessuno. Infatti, quando le affrontiamo le paure, nella maggior parte dei casi svaniscono con l'azione. Prima agiamo, prima supereremo le nostre paure. C'è una frase che a me piace tantissimo che è affronta il mostro quando è piccolo. Quando procrastiniamo o rinviamo, il mostro cresce. Queste paure crescono, crescono, crescono. E crescono solamente nella nostra testa. Prima facciamo azione e prima affrontiamo quella paura. Agire velocemente ci permette di avere molto più coraggio e ci aiuta a svilupparlo. Terzo passo. Questo entra nel ciclo della produttività. Qual è il ciclo della produttività? Prendi una decisione, fai azione, azione, azione e otterrai dei risultati. A volte andrà bene, perfetto. A volte cadrai, sbaglierai. Quando sbagli, impara qualcosa attraverso il feedback produttivo e prendi una decisione in base a quello che hai imparato. Nuova decisione, di nuovo azione, 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 azione. Alcune volte andrà bene, andrà bene, andrà bene. Altre volte sbaglierai. Quando sbagli, impara qualcosa, prendi un'altra decisione, di nuovo azione, azione, azione. Questo ciclo produttivo, uno ti aiuterà ad essere più efficace in quello che fai, ti avvicinerà molto velocemente al tuo obiettivo e soprattutto questo percorso di crescita verso il tuo obiettivo ti permetterà di avere molto più coraggio. L'ultimo passo, che io penso è quello più importante, per avere tanto coraggio, devi essere abituato a lavorare sulle tue paure. Da quelle piccole anche a quelle molto più profonde. Più lavori sulle paure, più ti sentirai coraggioso. Più lavori sulle tue paure, più sarai libero da questi mostri. Più riuscirai ad affrontare le cose che devi fare con un animo sereno e libero da queste paure. Ricordati, nessuno nasce coraggioso. Il coraggio è una virtù che può essere sviluppata. E tu puoi farlo. Da parte mia ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti! Grazie! 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 Grazie!